PipeNet è nato 15 anni fa per progettare i trasporti del futuro. È un sistema a levitazione magnetica che elimina completamente gli attriti avendo dei tubi ad aree evacuata. Le merci possono arrivare a 2000 km orari senza praticamente impatto ambientale perché l'energia arriva dai pannelli fotovoltaici e tutto quello che viene consumato per accelerare viene recuperato in frenata. In pratica potremmo muovere una tonnellata al secondo senza grossi consumi energetici. È una rivoluzione culturale e sociale nella nostra società perché potremmo immaginare una rete come Internet, però fisica l'Internet, cioè di oggetti che possono viaggiare ad altissima velocità e collegare produttori e consumatori. L'agricoltore di Palermo potrebbe spedire le arance a Genova in pochi minuti saltando tutta la catena del freddo e la conservazione in magazzini ma soprattutto collegando produttore e consumatore.